Con 20 voti favorevoli e 11 contrari, il Consiglio Comunale di Pesaro ha approvato le linee programmatiche di mandato del sindaco Andrea Biancani. Sette indirizzi strategici per sette sfide che rappresentano le azioni da realizzare nel corso della legislatura 2024-2029. Andranno a guidare quello che sarà il futuro delle scelte che noi faremo nei prossimi 5 anni. e saranno scelte che vanno sicuramente nella direzione di cercare di non lasciare nessuno indietro, quindi di continuare ad occuparci, come abbiamo fatto nel corso di questi anni, delle persone più fragili, delle persone meno fortunate, di riuscire a implementare quelli che sono i servizi legati alle politiche educative, quindi vuol dire stare vicino alle famiglie, di puntare sempre molto di più rispetto a quanto è stato fatto in passato sulle manutenzioni. Quando parlo di manutenzioni mi riferisco alla manutenzione delle scuole, degli esili, degli impianti sportivi, del verde, cercando di riqualificare quelli che sono gli spazi pubblici presenti in tutta la nostra città. Dall'altra parte abbiamo un grosso impegno che è quello di riuscire a mettere a terra tutti i tanti milioni con le risorse del PNR che siamo riusciti, come dire, a intercettare. Poi abbiamo posto il tema dei quartieri che noi riteniamo che siano importanti. Nel mese di novembre dovremo andare alla votazione per rinnovare i consigli di quartiere, dei luoghi importanti dove i consiglieri saranno delle vere e proprie sentinelle sul territorio che porteranno direttamente all'amministrazione comunale quelle che sono le varie esigenze. Dall'altra parte il tema dell'ambiente, con le comunità energetiche, la voglia di rendere la città sempre più verde, quindi aumentare quelli che sono gli alberi presenti in città. Al tema del volontariato, dove noi continuiamo a ritenere che il volontariato sia una grande risorsa della nostra comunità, volontariato che spesso si affianca a quelle che sono le politiche e le attività che porta avanti l'amministrazione comunale. E non per ultimo il fatto di voler continuare a puntare sulla cultura, cultura e turismo, che abbiamo visto che quest'anno, grazie all'anno capitale, abbiamo avuto degli ottimi risultati, ma queste sono tematiche che vanno finanziate ogni anno per cercare di far sì che il nostro territorio sia sempre più attrattivo. Dall'altra parte partirà il bando per riuscire a almeno fare il progetto per il nuovo Via di Trieste, tramite un bando, un concorso di idee. Stiamo portando avanti tutto il tema del porto per cercare di rendere il porto sempre più attraente, anche stando dietro a quello che è il tema del dragaggio della variante urbanistica che dovrebbe consentire di poter utilizzare la nuova Darsena anche per le barche per il riporto. C'è il tema delle infrastrutture, il tema dell'uomo ospedale, quindi tutti i temi che sono inseriti in queste linee programmatiche che secondo me invece sono molto efficaci e danno un'idea di quello che sarà la peso del futuro. Le linee, strettamente legate alla campagna elettorale di Biancani, hanno portato a Toni Acesi in consiglio con l'opposizione che ha definito il documento come vuoto e mancante di concretezza. Un documento che sarebbe perfettamente applicabile ad una città delle stesse dimensioni di Pesaro in qualunque altra zona d'Italia, perché è evidente che all'interno di questo documento non ci sia concretezza, non c'è una parola spesa nei confronti degli anziani, non c'è una parola spesa nei confronti di quelle che sono delle modifiche sui servizi educativi che sono assolutamente necessarie ed importanti. Dopodiché ho cercato anche di provare, così ho provato a sollecitare il sindaco perché delle proposte, delle idee che in campagna elettorale sono venute fuori anche dalla nostra parte politica potrebbero essere ben inserite all'interno di quello che è un contesto cittadino. Se solo ci fosse stato da parte della maggioranza il desiderio di provare a lavorare insieme. Un desiderio che noi non abbiamo trovato e che è evidente, rispecchia perfettamente quella che è l'idea della città di Pesaro che la giunta di Biancani ha voluto ricalcare anche rispetto alla precedente. Una città che si concentra sulla palla, piuttosto che sulla ruota, piuttosto che sul palio, ma che poi concretamente non costruisce un'identità per il futuro.